Grave incidente nella serata di giovedì 5 ottobre intorno alle 21.30 sulla 4.60 all'incrocio con via Rosario a Feletto, a scontrarsi una moto Yamaha R6 e una vettura Suzuki S-Cross. Il motoscritto è finito sull'asfalto. Sul posto sono prontamente intervenute l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte, il Rivarolo Canavese e i carabinieri di Quornier. Il motociclista cosciente è stato affidato al cura del 118. L'ambulanza ha trasportato il ferito al polo di protezione civile di Rivarolo Canavese, dove è atterrato il soccorso del 118. Illesi, nonostante lo spavento e qualche contusione, gli occupanti della vettura. La dinamica è al valido dei carabinieri. Dopo aver valutato le condizioni dell'uomo, l'edì di soccorso l'ha trasportato all'ospedale CTO di Torino. Disagi al traffico veicolare. Grazie a tutti.